Musica Grazie 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 Tra qualche minuto lanceranno anche le finali Grazie 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 Rosina Città di Castello Primo e secondo posto a seguire Ponte Vecchio Donatella Mentre per il L'Alessio Giappe Terzo e quarto posto Il primo e secondo posto Qua Cesenae Grazie E ti ricordo che nel campo sistetico Francesco Renzetti è in corso Nella Rezzo un capo in calcio champagne In questo momento sta giocando Ma in soli Roma contro il Moponte B E il Moponte A contro gli altri in cui Dai Marco B Dai Dai Guarda Guarda Di là Di là Di là Qui Dai E questo è il riporre Non sta per loro Dai 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 Bravo 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 Ciao Bravo 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 L'attivato Bravo Caroy Using Buson 看 osi Grazie. 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 Bravo Peter. Bravo Peter. Bravo Peter. Bravo Peter. Grazie. Bravopatio. Grazie. Dai ragazzi, dai dietro! Dieti include, vince Dieti per 2 a 1, per tanto le finali del terzo e quarto posto saranno giocate da mai soli Roma contro Ormo Ponte A e la finale per il primo e il secondo posto fra Dieti include Ormo Ponte B. Buon divertimento! Dieti include, vince! Vai! Dai, dai! Bravo! 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 passati dove stiamo vai prima e mezzo entra manco diretta vai va in mezzo grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.